I ragazzi, gli amici del mio figliolo che hanno avuto questa iniziativa, che hanno fatto il corso, hanno raccolto i soldi e hanno voluto onorare la sua memoria, non solo di lui che purtroppo non c'è più, ma anche pensando ai unvi e quindi io li ringrazio con tutto il cuore. Un bel esempio dal dolore della perdita di un ragazzo giovane alla consegna di questo defibrillatore che può praticamente salvare molte altre vite. Sì, io sono stufo di piangere i ragazzi che muoiono perché sono morti evitabili. Un defibrillatore può salvare i nostri ragazzi, evitiamo le morti stupide. 4% 5 anni fa, 40% oggi di salvataggi, quindi un defibrillatore importantissimo alla sua presenza. Io sono molto contento, ma sono contento dei cittadini di questa provincia che hanno risposto alla grande e all'appello fatto del 118. Oggi stiamo a fare la nostra stupenda a Tregozzano, da ora abbiamo messo il defibrillatore e Tregozzano ha una sicurezza in più, che prima non aveva. Una presenza costante e continua nel territorio da parte della Misericordia di Arezzo che svolge a pieno questo compito veramente eccellente. Sì, la Misericordia di Arezzo è sempre vicino a chi ha bisogno e da secoli, quindi da 1315 che è nata in Arezzo e quindi continuamente, a parte una breve interruzione, ma è sempre stata presente vicina alla gente. Quindi la presenza della Misericordia è importante, la presenza non soltanto della Misericordia ma anche di persone specializzate e formate nel territorio ha vitale importanza. Sì, sì, è importante, lo facciamo come Misericordia insieme agli altri formatori della nostra associazione. Come tutte le associazioni della provincia di Arezzo siamo inseriti in questo progetto per l'installazione dei defibrillatori e per la diffusione appunto di queste pratiche di rianimazione.